Un periodo un po' così, sicuramente colpa nostra, un po' di sfortuna, dobbiamo creare tanto, l'abbiamo fatto, solo che siamo riusciti a fare un gol solo e non è bastato, quindi adesso il primo pensiero è quello dell'occasione mia, che secondo me potevo far sicuramente almeno prendere la porta, non dico fardone, mi dispiace, però lo spirito è quello giusto, non era semplice, vedendo anche la partita scorsa, quindi mi sono fatti magari un po' di timore c'è stato, però poi lo spirito della squadra è stato giusto. Non ci va più che può pesare l'assertamento, una volta nei play-out, per quanto poi vabbè ma anche ancora ti fa finire, sono diritto, non mi cambia proprio perché non mi ha guardato la rassiglia, quindi non so, non accetto il pensiero quello adesso, dobbiamo far passare questo momento e può passare solo per merito nostro, con le nostre forze, con l'aiuto anche dell'oggettica che ci ha sostenuto fino alla fine e cercare di lavorare per trovare rimedi a questo momento che è un po' particolare perché appunto le altre squadre che erano poco, pure al 96esimo, che la mettono sempre all'incrocio, non può andare sempre così, speriamo. C'è stato, dopo un primo tempo in cui diciamo che il primo gol di Masucci poi è stato molti cross, molto ritmo, a un certo punto, naturalmente dopo i due reti subito praticamente in successione, perché a parte l'intervolo sarebbe in successione, c'è stato forse un po' di piano di rito, come una ventia di minuti, ecco lì forse avete accusato un po' il colpo? Beh sì, un'altra cosa che ci sta succedendo è che prendi il gol nel momento, non c'è un momento opportuno, però sai, alla fine del primo tempo, assolutamente all'inizio, allo scadere, quindi magari quello può andare in mente di disturba, però sarei stato più preoccupato se poi fosse andata così tutta la partita, se non ci fosse stata una reazione in mezzo alla fine, da chi è iniziato, da chi è entrato, ha cercato di guidare il suo contributo, appunto dobbiamo essere più precisi, più cattivi sotto porta a quello che ci sta mancando adesso. Scusate, gente, integrando un po' la cosa, un po' che la gestione su quello che siamo stati guardati, sarebbe stato fondamentale. Sì, certo, assolutamente sì, magari poi prendi lo stesso all'inizio, però sicuramente andare a riposo con un vantaggio, era l'obiettivo che dovevamo avere appena passato in vantaggio. Grazie. Grazie.